gentili telespettatori buona giornata il programma fuori dal coro di mario giordano viene congelato da mediaset finisce in anticipo ci sono delle delle voci abbastanza consistenti intanto mario giordano era già stato chiamato dai vertici di mediaset facendogli capire che il suo programma era un po troppo filo no vax e che la linea dell'azienda perché mediaset ricordatevi che un'azienda privata dove il fine è il lucro soldi aveva fatto capire che la linea dell'azienda non è quella la linea dell'azienda è si vax non fare l'occhiolino inovax si dice che giordano abbia gridato da quell'ufficio che le sue urla si sentirono fino al primo piano dicendo che lui non si faceva condizionare che lui era un giornalista che doveva dire quello che voleva eccetera eccetera voi lo sapete che qualunque lavoratore dipendente non è libero di fare quello che vuole io nelle aziende dove ho lavorato 13 14 anni non è che ero libero di fare quello che volevo nonostante fossi un dirigente dovevo seguire le direttive dell'azienda a volte tu ti senti libero ah no io ho ampia fiducia in realtà non sei libero e neanche un conduttore televisivo è libero di dire fare quello che vuole sono rarissimi magari casi di questo tipo i vertici del biscione non hanno gradito la linea troppo novax di fuori dal coro e così ieri sera martedì 14 dicembre non è andato più in onda fuori dal coro mentre gli altri talk show di approfondimento politico con cui si contende il martedì sera mario giordano erano in onda beh il verdetto è abbastanza chiaro gli ascolti cresciuti per giovanni floris con di martedì sulla sette ha raccolto il 6,9 per cento di telespettatori un milione 335 mila carta bianca al programma di berlinguer in onda su rei 3 è volato al 7,6 per cento di share pari a un milione 412 mila telespettatori con la finta litigata tra scansi e un altro ed era tutto dicono uscito per la notizia sul coro della sera tutto programmato le litigate volute invitano i vax no vax professori di qui professori di là per farli litigare in prima serata quella che chiamano la tv trash la tv spazzatura termine inglese che veniva indicato anche per una serie di film trash quelli che avevamo noi negli anni 70 80 tutto un filone trash oggi super rivalutato diventato dei film dei film leggendari quelli del filone lino banfi pierino eccetera eccetera il colonnello di qui ricordate noi film di di quel tipo lì no film trash chiamati film spazzatura come avevano chiamato film trash anche la serie poi diventata leggendaria degli spaghetti western e quei film western dove addirittura avevano cambiato i nomi agli attori italiani bud spencer e terence hill sono due nomi inventati perché il film doveva sembrare ammaragana infatti andando in giro per il mondo pensano che bud spencer e terence hill siano due attori americani era proprio questo che volevano i registi italiani fare sembrare questi film ammaragane e questi film che dovevano sembrare ammaragane sono diventati molto meglio dei film americani sono delle leggende infatti lo spaghetti western era denigratorio come dire la buffonata italiana che voleva imitare i film western sono diventati più belli in assoluto ma venivano veniva definita la televisione trash no quei film fatti con quattro soldi che clint eastwood inizialmente aveva rifiutato no quindi il buono il brutto il cattivo per un pugno di dollari tutti quei film diventati leggenda all'inizio erano bistrattati come schifezze televisive oggi quelle schifezze televisive vanno avanti con le litigate televisioni in televisione certo questi programmi non diventeranno mai leggenda come bud spencer e il lino banfi ovviamente rimane tv trash addirittura la tv di stato che invita che invita persone per fare la litigata perché sennò il programma è troppo noioso e poi si è visto che le televisioni hanno ragione a fare litigare le persone perché gli ascolti salgono il vince il programma di berlinguer con un milione quattrocentododicimila spettatori più gridano perché scansi offende l'altro che si alza e se ne va fantastico la gente cerca proprio questo il fatto è che che tutto si riconduce appunto a questo e così mario giordano con le sue va in giro col monopattino in trasmissione grida lancia le cose tira i pugni a dei citofoni finti ecco la gente che si ama questo tipo di trasmissione poi adesso nel panico va a cercare altra televisione di quel tipo lì ecco pertanto floris e berlinguer si sono divisi il pubblico orfano di mario giordano entrambi i programmi infatti hanno registrato dati di ascolto sensibilmente superiori alla media stagionale rete 4 così perde ascolti a favore della lite furibonda tra andrea scansi e contri quello che la gente cerca voi direte beh il programma di mario giordano mario giordano è un è un giornalista molto intelligente guardate che mario giordano è un giornalista tra i migliori che ci sono in italia però però lui consapevolmente ha scelto quell'atteggiamento perché secondo lui quello prende il pubblico in realtà ragione in realtà ragione io che non amo la televisione trash spazzatura non amo le gridate la gente che si alza che se ne va preferirei vedere giordano in un programma fatto seriamente come quello di porro però giordano ormai è prigioniero di questo suo personaggio e ha un pubblico che cerca il giordano che va col monopattino il giordano che grida la telecamera e lui si è infilato in questo personaggio non esce più ma mario giordano non è solo monopattino e gridate alla telecamera è un giornalista di quelli dei migliori purtroppo prigioniero di questo personaggio un po come sgarbi che è diventato prigioniero del capra 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 e lo invitano per sentire questo e quando sgarbi non fa non dice il capra capra chi lo ha invitato rimane a ma sgarbi la vedo tranquillo oggi perché lo invitavano per cercare la litigata la gridata e ultimamente sgarbi non era su quella linea e così lo hanno invitato poi sempre di meno avete notato vero grazie a tutti e buon proseguimento di giornata